Migliorare con i post-mortem. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere che cos'è un post-mortem, come si conduce e quali sono gli artefatti da produrre. All'interno della metodologia DevOps è fondamentale essere trasparenti e condividere le informazioni, soprattutto quando abbiamo avuto a che fare con dei problemi in produzione. In questo modo il team che ha avuto e risolto un problema lo documenta, ne capisce in maniera documentata le cause e comunica a tutti gli altri membri dell'azienda o della realtà in cui siamo che cosa è stato fatto e qual era il problema in modo strutturato. Affinché un'analisi post-mortem sia efficace devono essere rispettate determinate regole di base al fine di consentire alle persone che hanno portato all'errore, che sono state coinvolte nell'errore o nel problema in produzione, di parlare in maniera trasparente e condividere senza aver paura di ripercussioni ciò che hanno causato. Prima di andare avanti sappi che metto in descrizione un link per scaricare un template per condurre un post-mortem seguendo sempre le stesse regole e non dimenticando niente, così sarà un post-mortem di qualità. Andiamo a vedere quali sono le regole per condurre un'analisi di questo tipo al meglio. Quindi, una prima best practice è quella di eseguirle il più vicino possibile all'accadimento dell'incidente, del problema in produzione o che vogliamo analizzare. La seconda cosa è che dobbiamo condurre questo incontro nella mentalità del senza colpa. È ovvio che qualcuno o qualcosa ha causato un problema, però dobbiamo cercare di adottare la mentalità di non puntare il dito e non incolpare, far sentire in colpa quella persona. Entriamo poi nel dettaglio un po' di più su questo aspetto tra poco. E questo va fatto dopo che l'incidente è stato risolto, perché ricordiamo la priorità principale in questi casi è quella di ripristinare, qui stiamo parlando di problemi importanti, di ripristinare il servizio. Quindi la nostra operatività deve tornare a livelli accettabili, il servizio deve ritornare in piedi per i nostri utenti, non possiamo perdere tempo nel fare il post-morte mentre risolviamo il problema. Mentre risolviamo il problema, se ci riusciamo, andiamo a raccogliere qualche informazione in più, se non andiamo a compromettere di troppo le tempistiche di risoluzione. Questo è un pochino un'arte da praticare. Quindi, dopo che il problema è stato risolto, il servizio è ritornato operativo, andiamo a condurre il post-mortem. Tornando un secondo sul discorso della colpa, il moderatore o il facilitatore che avvia il momento del post-mortem deve recitare sempre o perlomeno per le prime volte questa regola, quella che viene chiamata la prime directive dei post-mortem. Andiamo a leggere. Quindi andiamo a porre effettivamente l'accento su una cultura e una mentalità di sfiducia che non lascia spazio all'incolpare e al pensare che quella persona ha fatto male apposta. Proseguendo su questo filone, quindi ci concentriamo sul fatto o sui fatti che hanno portato al fallimento e sul processo di decisioni che ha coinvolto una o più persone e ora dalla fine è capitato un errore. Dobbiamo cercare di concentrarsi sui fatti e andiamo quindi ulteriormente avanti. Diciamo che è importante stabilire il chi era presente nelle varie fasi, quindi chi era coinvolto nelle decisioni che poi hanno portato al problema. Poi dobbiamo annotare durante il post-mortem chi ha identificato il problema, chi ha reagito al problema, perché potrebbero essere persone ovviamente diverse, chi l'ha diagnosticato o che cosa, potrebbe essere anche un tool automatico, un'automazione che ci segnala, che avverte una persona, e poi chi era interessato dal problema, cioè chi era effettivamente intaccato da questo malfunzionamento. Cosa dobbiamo raccogliere ulteriormente durante un'analisi di questo tipo? Dobbiamo cercare di ricostruire una cronologia degli eventi e importante riuscire ad ascoltare tutti i punti di vista, perché ognuno dei vari chi che abbiamo visto prima avrà un'osservazione dal suo punto di vista con qualcosa diverso da dire. Quindi è importante da parte del facilitatore o moderatore andare a stimolare tutti quanti i punti di vista senza lasciarne di trascurati. Ecco appunto, in particolare magari chi ha commesso l'errore dovrà, o chi, la persona singola o gli altri che hanno commesso gli errori, gli dovranno spiegare e poi anche spiegare agli altri come evitare in futuro si pensa insieme una soluzione, che deve essere appunto una contromisura. Questa contromisura ha una caratteristica estremamente importante, nel senso che non deve essere una soluzione super complessa che risolve la fame nel mondo, ma deve essere lo step, il miglioramento più facile possibile, che porta a un risultato immediato e deve avere una data di svolgimento in maniera tale da ritenere accountable, da avere la responsabilità di risolverlo entro una certa data, con un follow up per vedere come stanno andando le cose. Quando andiamo a ricostruire la timeline degli eventi dobbiamo cercare di ricordare al meglio e ovviamente se riusciamo portiamo delle prove, possono essere delle evidenze, dei log, degli screenshot di grafici, di telemetria, ok? Se tutto questo, ed è molto probabile, avviene in un contesto di chat aziendale, un team su uno Slack e così via, è utile appunto usare strumenti di questo tipo perché mano a mano che si risolve il problema, le persone si iscrivono e tracciano i passaggi o che cosa si sono detti e le informazioni che si sono scambiate. È molto probabile inoltre che durante un problema importante ci sia una call attiva e quindi magari una registrazione. è già anche disponibile. Dobbiamo riportare quando scriviamo il post-mortem come abbiamo indagato e infine le soluzioni considerate. Mi raccomando all'inizio soprattutto essere rigorosi, seguire un template, si può partire appunto da un template già fatto e poi adattare alle proprie esigenze e le prime volte in particolare con un facilitatore del meeting il cui scopo importante è quello di evitare appunto una sensazione di dare le colpe e di mantenere invece le osservazioni sui fatti. Il moderatore deve anche stare attento a un altro meccanismo psicologico umano che tenta di creare scenari alternativi a fatti già accaduti e in particolare se ne può accorgere quando diciamo, quando si sentono dire le frasi avrebbe potuto essere o potrebbe essere avrei potuto fare se avessi saputo ok ed è importante che il moderatore prenda e dica no, non concentriamoci su delle ipotesi torniamo a considerare i fatti quindi perché questo ragionamento questo modo di pensare che comunque è parte della nostra mentalità ci distrae da ciò che è accaduto veramente infine una volta che abbiamo dedicato così tanto sforzo a capire effettivamente che cosa è successo proporre delle contromisure la contromisura migliore da fare rapidamente con data e follow up e tutto questo investimento di energie e tempo viene ripagato maggiormente se riusciamo a diffondere il post mortem l'analisi e tutto quello che abbiamo prodotto ampiamente in maniera proprio diffusa all'interno dell'azienda lo possiamo fare con vari strumenti possiamo utilizzare appunto la chat aziendale una wiki aziendale insomma quello che abbiamo a disposizione affinché venga fruito il più possibile e anche deve essere facilmente ricercabile in maniera tale che le persone che poi possono avere problemi simili futuri problemi in produzione e cose del genere possano tramite delle funzionalità di ricerca arrivare al contenuto alcune aziende molte aziende soprattutto quelle più mature in termini di queste pratiche ovviamente andando a nascondere informazioni riservate pubblicano i post mortem anche su internet a disposizione di chiunque in particolare dei loro clienti per essere informati su che cosa è successo e come hanno risolto ecco qui il template che metto in descrizione che contiene appunto la prime directive per da leggere all'inizio soprattutto le prime volte per in ogni post mortem la scaletta delle cose da fare e i punti spiegati poco fa parlare di devops significa anche parlare di queste tematiche che sono estremamente importanti quando abbiamo a che fare con delle persone e degli errori ecco perché quando si parla di devops si parla in particolare di cultura e di interazione tra le persone bene per oggi ci fermiamo qui se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace o iscriviti al canale così sarai notificato sulle prossime uscite ciao